Il consigliere provinciale bergamasco della lista Bettoni Udc, Vittorio Milesi, ha presentato un'interpellanza riguardante il servizio di prestito interbibliotecario. Nelle scorse settimane era stata ventilata l'ipotesi che nell'ambito delle operazioni volte alla riduzione e al contenimento delle spese, possa essere messo in discussione il mantenimento di questo servizio gestito dalla provincia. Nell'interpellanza Milesi sottolinea che il sistema bibliotecario bergamasco nel suo complesso, grazie anche all'impegno e alla forte iniziativa della provincia, costituisce un servizio di qualità riconosciuto e apprezzato, rappresentato nel 2011 da questi numeri, 236 biblioteche pubbliche, 2.157.000 prestiti, 410.000 libri movimentati come prestito interbibliotecario, 211.000 utenti attivi. Milesi evidenzia che il prestito interbibliotecario costituisce un servizio prezioso e di particolare valore perché offre la possibilità anche ai cittadini del più piccolo comune di Montagna di poter leggere e consultare le stesse pubblicazioni e volumi che vengono acquistati e prestati dalle biblioteche dei grandi centri. Ritenendo che il servizio debba essere garantito anche in futuro e che i risparmi di spesa possano essere conseguiti anche attraverso l'implementazione di nuovi modelli organizzativi, Milesi interpella il presidente della provincia e l'assessore competente per avere informazioni e rassicurazioni in merito alla volontà di garantire il servizio di prestito interbibliotecario e per conoscere se si stiano valutando le proposte avanzate da alcuni sistemi bibliotecari della provincia riguardanti l'adozione di nuove modalità gestionali e organizzative che possano consentire il mantenimento del prezioso servizio con la contestuale riduzione dell'aspetto.